Ha sciolto le riserve il sindaco di Pagani e ha convocato sabato scorso alle ore 12 il gruppo di maggioranza per comunicare che le trattative politiche ed amministrative con il Partito Democratico si sono chiuse con la partecipazione attiva alle scelte amministrative della maggioranza bottoniana. Il sindaco comunica ai suoi consiglieri, non tutti presenti, che i responsabili locali e provinciali del Partito Democratico hanno dopo qualche tempo deciso di sposare il progetto di Salvatore Bottone. Per la verità la comunicazione non ha meravigliato più di tanto i consiglieri comunali presenti, anche se dagli stessi non sono mancate puntualizzazioni e richieste di verifica e chiarimenti, con la presenza però di tutti i consiglieri comunali. Sembra comunque tracciato il percorso politico che avrà la sua prova del 9 in questo periodo di campagna elettorale, con la verifica che si avrà il giorno successivo chiaramente al 4 marzo, cioè quando si farà la conta dei voti sul candidato prescelto sul quale, crediamo, si misurerà la maggioranza. Qualora tutti decidessero di votare il candidato prescelto ed indicato. La nota particolare è che dell'incontro avuto a fine settimana poco si è parlato e molti consiglieri comunali hanno preferito prendere tempo, in attesa che i vertici del Partito Democratico, locale e provinciale, incontrino i consiglieri comunali per meglio definire i ruoli e l'impegno che si dovrà avere nella stessa medesima campagna elettorale che si sta svolgendo o che si svolgerà da qui al 4 marzo.